Passiamo alla lezione 5 di statistica inferenziale in cui vediamo la verifica di ipotesi. Dividiamo questa lezione in due parti. Nella prima parte vediamo la verifica di ipotesi per un campione, nella seconda parte vedremo invece la verifica di ipotesi per due campioni. In più, sempre nella seconda parte, accenneremo all'analisi della varianza che viene applicata per la verifica di ipotesi per più di due campioni. Cos'è una verifica di ipotesi? Una verifica di ipotesi consiste nel formulare un'ipotesi sui parametri dell'universo e successivamente verificarne la sua validità. L'ipotesi che vogliamo sottoporre a verifica è detta ipotesi di base, oppure anche ipotesi nulla, e viene indicata con H0. Se non risulterà valida l'ipotesi nulla H0, allora lo sarà l'ipotesi alternativa H1. L'ipotesi alternativa può essere bilaterale o unilaterale. Vediamo meglio con degli esempi. Per esempio, vogliamo verificare se la spesa media mensile delle famiglie di Milano è significativamente differente da 1.500 euro. Quindi l'ipotesi nulla sarà H0 mu uguale 1.500, quindi la media dell'universo, che sarebbe in questo esempio la spesa media mensile delle famiglie di Milano. L'ipotesi alternativa, in questo caso bilaterale, sarà H1 mu diverso da 1.500, in quanto la traccia ci chiede di verificare se la spesa media mensile è significativamente differente da 1.500 euro. Quindi quando abbiamo il termine differente, dobbiamo porre un'ipotesi alternativa bilaterale. Perché bilaterale? Perché qui mu diverso da 1.500 significa che mu può essere sia minore sia maggiore di 1.500. Per questo è bilaterale, perché comprende entrambi i casi, minore e maggiore. Quindi lo indichiamo con il simbolo diverso. Possiamo avere anche un'ipotesi alternativa unilaterale, quando ad esempio vogliamo verificare se la spesa media mensile delle famiglie di Milano è significativamente superiore a 1.500 euro. Quindi ipotesi nulla H0 mu uguale 1.500, ipotesi alternativa, in questo caso unilaterale, destra, H1 mu maggiore di 1.500. Quindi quando abbiamo il significativamente superiore nella nostra traccia, l'ipotesi alternativa sarà unilaterale, destra, e poniamo il segno maggiore. Possiamo avere anche un'ipotesi alternativa unilaterale sinistra, per esempio vogliamo verificare se la spesa media mensile delle famiglie di Milano è significativamente inferiore a 1.500 euro. In questo caso H1 mu minore di 1.500, quindi ipotesi alternativa unilaterale sinistra. In generale, per quanto riguarda la media dell'universo, scriveremo l'ipotesi nulla in questo modo, H0 mu uguale a un certo valore mu0. Nel nostro esempio mu0 era uguale a 1.500. Mu0 quindi è il valore della media che noi ipotizziamo nella nostra verifica di ipotesi. Nell'ipotesi nulla ci va sempre il segno dell'uguaglianza. Ipotesi alternativa bilaterale e poniamo il segno della disuguaglianza. Ipotesi alternativa la indichiamo con H1 mu diverso da mu0. Ipotesi alternativa unilaterale destra e ci va il segno maggiore. Ipotesi alternativa unilaterale sinistra e ci va il segno minore. Ancora più in generale, se vogliamo generalizzare ancora di più l'argomento sulla verifica di ipotesi, dobbiamo considerare il parametro θ. Per esempio, ipotesi nulla, H0, θ uguale a un certo valore θ0. Per θ si intende un qualsiasi parametro dell'universo. In questa lezione vedremo, come al solito, il parametro media mu, il parametro frequenza relativa pi greca e il parametro varianza sigma quadro. L'ipotesi nulla viene verificata attraverso una statistica test che sarebbe una formula che, sulla base delle osservazioni campionarie, ci permette di decidere se accettare o meno l'ipotesi nulla. Quindi attraverso una statistica test ricavata dalle osservazioni sul campione, noi verifichiamo se l'ipotesi nulla deve essere accettata o meno.